Andrà tutto bene puntata numero 523 sono le 10 e 44 del 26 luglio 2021 dagli studi di Aracne TV Chiara Buccini in collegamento con noi il gruppo Trante 2000 il presidente l'architetto Daniele Bellu le componenti l'architetto Maria Grazia Canuto e la dottoressa Antonietta Pignatelli scrittrice esperta e studiosa di Leonardo da Vinci. Architetto Bellu in queste puntate abbiamo analizzato i vostri progetti la vostra opera veramente decenni di lavoro per presentare progetti e proposte ma qual è veramente l'entità dell'opera e dei lavori portati avanti dal gruppo Trante 2000? Ecco la vastità è veramente notevole perché si tratta di oltre 50 progetti redatti pensate in più di 40 anni di attività progettuale e io ho iniziato a redigere quando mi sono laureato in scienze politiche a Padova nel 1975 un anno abbastanza lontano e allora con quella tesi di laurea che ho redatto ho potuto scrivere un tema sull'agente provocatore è un operatore di polizia e cosiddetto agente di copertura che è stato riesumato proprio con il precedente governo Conte dal premier che ha detto per eliminare la corruzione dobbiamo operare con l'agente provocatore ma non solo questo è stato un primo progetto che ho redatto poi sono venuti tutti gli altri gli altri del settore giustizia del settore tutelare l'ambiente e poi un trattato sul nuovo modello di Stato da cui hanno originato tutti i progetti cioè che cosa ho fatto ho redatto prima un trattato generale che riguardasse le varie materie di forma dello Stato e poi questo naturalmente comportava delle notevoli trasformazioni modifiche alla Costituzione italiana e poi ho redatto dei progetti di avvicinamento con il futuro modello di Stato che non avevano bisogno di modifiche alla Costituzione e quindi ho redatto tutti questi progetti riguardanti l'organizzazione dello Stato ma questo è stato un filone dell'area progettuale poi c'è stato quello filosofico quello spirituale i tre i tre progetti sul di carattere filosofico scientifico divino amore la teoria della relatività ideale e poi mi sono sbizzarito anche in un'opera matematica che è molto bella e che riguarda l'evoluzione del concetto derivato che io ho chiamato traslato poi ci sono due progetti spirituali che sono molti importanti per la fede cristiana perché avvicinano la scienza alla fede e sono la ridefinizione scientifica della religione cattolica e la nuova liturgia della messa poi poi abbiamo un altro trattato sull'architettura del terzo millennio che ho redatto come architetto e quindi è un progetto artistico che si viene ad unire con le opere d'arte dei pittori che sono stati sollecitare a impiegare a realizzare il nuovo stile pittorico sotto la spinta di questo trattato sull'architettura del terzo millennio infatti ho potuto presiedere e coordinare un gruppo di artisti con i quali stiamo proprio in questi mesi proponendo dei convegni con i vari assessorati della cultura del vetto della friuli del lombardia del piemonte il piemonte proprio domani ho una videoconferenza per concordare con l'assessorato alla cultura del del piemonte proprio un convegno sui te su un nuovo stile architettonico e pittorico che è venuto fuori da questo lavoro architettonico quindi si vede che quest'opera è veramente vasta non mi sto a dilungare perché potrei parlare per ore su questo però grazie architetto bello architetto canuto il tempo poi per impiegato per redigere tutta quest'opera insomma dell'architetto bello e di tutto il gruppo atlante 2000 sono 40 anni di lavoro e ovviamente iniziati in un momento storico in cui tutto era ancora imbrionale ancora il problema tematico il concetto della di un'architettura sostenibile il concetto del clima il concetto di una giustizia nuova di tutto e il concetto della spiritualità del rapporto tra religione idea e scienza sono tutti temi tracciati ovviamente 40 anni fa quando eravamo ancora all'inizio di un grande percorso e oggi invece scientificamente tecnologicamente e soprattutto culturalmente abbiamo un tessuto sociale estremamente recettivo e quindi ritengo che questi progetti diventino uno strumento fondamentale di scienza di ricerca di sviluppo e soprattutto di identificazione per un nuovo millennio il terzo millennio che dovrà essere un millennio dove si vanno a recitare alcune componenti fondamentali un'architettura sostenibile un clima che dovrà assolutamente essere rivista e quindi il concetto carbonioso la forestazione e soprattutto la globalizzazione in quanto l'architetto diventerà il vero artefice della nuova progettualità come lo è stato sempre dalle fine dalle sue origini perché tutto parte da un'idea da un progetto da una identificazione in trama e ordito dei bisogni di tessuto sociale perché l'architetto è il primo a farsene carico perché anche un ruolo sociale oltre che tecnico tecnologico e giuridico di rappresentare quello che è anche un aspetto di sostenibilità in termini ambientali quindi la figura dell'architetto dovrà ritrovare come lo era anticamente dovrà ritrovare quello che è la fondamenta e come dicevo prima la trama e l'ordito per riprogettare il nuovo tessuto sociale facendo riferimento ai 40 anni di lavoro e 50 trattati e tutto quello che è stato oggetto anche di studio e di valutazione di quello che deve essere l'approvazione dell'unesco quindi questo ci consentirà di poter dare anche al mondo un'efficace testimonianza di quello che è l'architettura italiana e quindi gli architetti italiani hanno sempre insegnato al mondo se pensiamo che la casa bianca prende spunto dal palladio come rifendimento architettonico se pensiamo che l'anatomia dell'architettura e della natura di Leonardo è stato studiato in tutto il mondo se pensiamo a Giotto a tutti i grandi architetti italiani che hanno fatto scuola al mondo di architettura io penso che l'architettura debba riprendersi quello spazio originario e riprogettare un tessuto sociale che tenga conto della persona umana e l'uomo al centro con la sua spiritualità con la sua necessità di coniugare architettura salute e vision anche sociale e quindi risponde grazie Canuto che ha dato questi riferimenti storici adesso proprio è il momento dell'intervento della dottoressa Pignatelli che è il nostro filo diretto insomma con Leonardo da Vinci dottoressa Pignatelli insomma la sistematica adottata dal gruppo Atlante 2000 per comporre questa vasta opera come ci spiegava l'architetto Canuto che si è protratta insomma per oltre 40 anni e non è casuale non è casuale può essere un punto di forza ma anche un punto di debolezza tutte le i progetti che sono stati reclutati tramite Aracne 2000 hanno entrambe le variabili nel senso che qualcuno potrebbe pensare che quando si mette troppa carne sul fuoco si finisce col bruciare tutto eh però proprio questa variabilità è l'elemento di forza di tutti i progetti di Daniele Perino pensate a Leonardo vi cito solo per sintetizzare il tutto eh che eh tutti questi progetti si rifanno alla natura eh vi cito questo passo di Leonardo molto significativo e breve ma capibile da tutte le persone cose cose e tanto dilettevole e copiosa nel variare madre natura che in fra gli alberi non c'è una foglia uguale all'altra non c'è un ramo uguale all'altro né fiori né frutti però tutti quanti in questa ehm esplicazione valoriale rispondono al progetto dell'uno e della progettualità universale architettonica dell'architetto della natura quindi tutti questi progetti che potrebbero sembrare utopistici ma anche Leonardo tutti i progetti di Leonardo sono stati eh rivalutati anche nei secoli successivi quindi eh e questa variabilità della natura che corrisponde alla innumerevole propositività di Daniele Bellu che è il suo punto di forza anche se molti lo considerano diciamo il suo punto debole nel senso che se si va con un solo progetto magari si riesce a farsi capire ma Daniele è come la genialità di Leonardo non è un solo progetto ci sono miliardi e miliardi di idee che devono essere intercommesse e questo il segreto di tutta la progettualità di Daniele Bellu come è anche il segreto di Leonardo da Vinci. Grazie grazie alla dottoressa Pignatelli ringrazio tutto il gruppo Atlante duemila il presidente l'architetto Daniele Bellu l'architetto Maria Grazia Canuto la dottoressa Antonietta Pignatelli vi do appuntamento alla prossima puntata. Buona giornata.